Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Condizioni di spiccata instabilità per quanto riguarda la giornata di martedì in Liguria per il passaggio di una perturbazione con anche delle precipitazioni a carattere nevoso in Appennino. Ventilazione sostenuta con mare mosso molto mosso. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese, contesto instabile soprattutto nella seconda parte della giornata con piogge e rovesci sparsi, temperature massime non oltre i 10-12 gradi. Sul Savonese situazione praticamente analoga, anche qui avremo delle precipitazioni sparse per gran parte della giornata tratti anche a carattere nevoso in Appennino, temperature massime non oltre gli 8-10 gradi. In dettaglio su Genova ed intorni, anche qui contesto instabile per il passaggio di questa perturbazione, temperature massime non oltre gli 8-10 gradi. In dettaglio sul Tigullio, anche qui cieli in prevalenza nuvolosi, piogge e rovesci a carattere sparso e temperature massime non oltre i 10 gradi. Infine sullo Spezzino, situazione praticamente analoga, anche qui il contesto sarà instabile per gran parte della giornata con fenomeni sparsi, temperature massime non oltre i 10-12 gradi. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì in Liguria, il contesto sarà variabile, vedremo parziali schiarete ma comunque alternate al transito, i nubi irregolari e nuovamente potrà ripresentarsi qualche piovasco. Temperature massime che teneranno ad aumentare. Tutti i dettagli, come sempre, sull'app di Trevi Meteor. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, come sempre, sull'app di Trevi Meteor.